È una scelta della signora annunziata, della dottoressa annunziata, bisogna chiedere a lei quali sono le ragioni, nessuno ha conduzioni a vita di trasmissioni, nessuno ha diritto a vita a avere posizioni di particolare rilievo, tutte le professionalità sono da rispettare anche quando magari hanno avuto qualche scivolone come è accaduto ultimamente, ma è una scelta sua, una scelta sua così come sono scelte del governo a mio avviso molto positive di persone di alto profilo che daranno alla RAI un pluralismo vero che non vuol dire sostituire una parte con un'altra ma vuol dire davvero avere rappresentate nel servizio pubblico che è pagato dai cittadini, rappresentate le principali posizioni che ci sono nella nazione e nel Parlamento.